Benvenuti a Cagliari, questa è Cagliari-Napoli, free climbing, un saluto da Piero Cipardo e da Stefano Nava Attenzione a Biondini, palla interessante, viene soltanto sporcata, il tocco sotto la parte di Cossu De Santis che resiste ancora, possibilità per Cossu e poi l'intervento di Maggio viene giudicato irregolare e arriva anche il cartellino giallo, non potrebbe essere altrimenti Rinvio, pallone profondo, Canini lascia rimbalzare, Lavezzi alla caccia del pallone che viene deviato poi diventa buono per Quagliarella, Quagliarella, Marchetti Apertura di Amsic verso Lavezzi, scivolato, parola Lavezzi, buona serpentina Lavezzi 1-0 Napoli, e il pocio, slalom speciale e quando l'equilibrio regna ci sono i giocatori che fanno la defiorenza in questo caso è Lavezzi che è forte della sua destrezza, della sua tecnica e velocità ha fatto segnare parola, si è ritagliato lo spazio per il tiro e ha pescatolando la pressione di Agostini, ancora Quagliarella, ecco Amsic, spazi stretti, Amsic ha spazio per andare sinistro, Marchetti Palla allontanata, ha provato Quagliarella e Marchetti ci ha messo le dita e dunque sarà ancora a calcio d'angolo Eccolo Amsic, riceve questo pallone, torna sul sinistro Amsic, per la terza volta in questo secondo tempo il sinistro di Amsic, occhio al calcio d'angolo, parte proprio Amsic, palla messa fuori e poi in due tempi, arriva il gol del 2-0, 2-0 per il Napoli con l'esultanza di pazienza, 2-0 Napoli, l'esultanza, il pugnetto di Mazzarri Lazzari, palla verso Matri, dentro c'è l'Arrivey, cross morbido, grande scelta di tempo, 2-1 con l'Arrivey che rimette in partita, il Cagliari, grande combinazione sull'out, Matri l'Arrivey, che gol, che meraviglioso gol, coefficiente di difficilissimo, ha girato la palla sul secondo palla, è partito dietro la schiena del dipensore che stava guardando Matri in possesso di palla ma doveva anche interessarsi del movimento, del movimento di Ecellino sembra dire, state zitti, che mi avete preso in giro immagino, insiste il Cagliari in qualche modo riuscire a servire Cossu, nuovo cross, palla dentro, deviazione, 2-2 il pareggio di Matri, 2-2, 2-2 Guarda quanti uomini del Cagliari dentro l'area del rigore, 5 uomini all'interno, marcati da 4 del Napoli, 1 libero, Matri ha pescato il jolly con questo colpo di nuca, fortunato vincente Occhio al cross dentro, verso Ceda, 3-2, 3-2, 3-2, Ceda al primo pallone Perfetta scelta di tempo, 5 minuti di recupero per le speranze del Napoli, si è ribaltato tutto, il contrario di quello che era successo a Perrino con la Junta Allegri insomma ha, diciamo, ha resa più difficoltosa la rimessa al Napoli e quindi l'avezzi arrivato in corsa, ha sparato questo pallone che ha colpito l'allenatore del Cagliari Grava lo può difendere, in 10 il Napoli, la battuta dentro, colpo di testa, Marchetti lo fa Bogliassino, gole 3-3, gole 3-3, esulta la Dezzi 3-3, il pareggio di Bogliassino, devono essere tutti orgogliosi, fammelo dire, abbiamo visto una grande partita